L'incontro di questa mattina è estremamente importante perché noi lo prevediamo come il primo di una serie di incontri. Si affronta il tema dell'intelligenza artificiale nelle scuole, nei percorsi di istruzione, quindi nei percorsi di apprendimento degli studenti. È fondamentale riuscire a introdurre questo tema nelle scuole sgombrando il campo dalla paura. Un anno e mezzo fa con ChatGTP è esploso nelle scuole il tema dell'intelligenza artificiale. Prima era sottotraccia, diciamo così. Insieme però a ChatGTP è nato il timore che questo possa impoverire il percorso di apprendimento degli studenti, possa trasformarlo in un percorso meno significativo, in un percorso appunto in cui ChatGTP sostituisce alcune attività degli studenti rendendo il loro percorso di apprendimento non di qualità. Noi vogliamo insieme, quindi ringraziamo e approfittiamo delle competenze di Fondazione Bruno Kessler, lavorare con le scuole e per le scuole e per gli insegnanti affinché l'intelligenza artificiale possa essere introdotta nelle scuole per migliorare i percorsi di apprendimento, rendendoci conto anche di quali siano i limiti di questi strumenti, ma vogliamo conoscere, diciamo, in un primo momento, vogliamo che gli insegnanti, gli studenti, conoscano questi strumenti e in seconda battuta imparino ad utilizzarli al meglio per potenziare e non, come dire, rendere meno significativi i percorsi di apprendimento degli studenti e permettere agli insegnanti di ottimizzare il loro tempo.